Non aprire il tuo cuore al primo che capita. Così detta il libro del Siracide al capitolo 8 versetto 22. I tuoi problemi trattali invece con chi ha saggezza e timore di Dio. Cerca di stare raramente con persone sprovvedute e sconosciute. Non metterti con i ricchi per adularli. Non farti vedere volentieri con i grandi. Sta invece accanto alle persone umili e semplici, devote e di buoni costumi e con esse tratta di cose che giovino alla tua santificazione. Non avere familiarità con alcuna donna, ma raccomanda a Dio tutte le donne degne. Cerca di essere tutto unito soltanto a Dio e ai suoi angeli, evitando ogni curiosità riguardo agli uomini. Mentre si deve avere amore per tutti, la familiarità non è affatto necessaria. capita talvolta che una persona che non conosciamo brilli per fama eccellente e che poi, quando essa ci sta dinanzi, ci dia noia solo al vederla. D'altra parte, talvolta speriamo di piacere a qualcuno stando con lui e invece cominciamo allora a non piacerli perché egli vede in noi alcunché di riprovevole.